Quali rischi coprire e quali no? Che cosa vuol dire? Quando si parla di rischi in generale è sempre complicato all'inizio capirsi con il potenziale cliente. Perché è complicato? Perché il cliente è abituato, e questa è colpa di noi assicuratori, è abituato a sentir parlare di prodotti e non di rischi che si vanno a tutelare o di eventuali bisogni. Quindi bisogna sempre spiegarsi prima e cercare di capirsi e arrivare allo stesso livello di comunicazione per far sì che si parli di rischi. Qual è il tuo tenore di vita? Che tipo di giornata vivi tutti i giorni? Quanto stai in macchina? Quanto sport fai? Quanta attività sportiva fai? Quali sono i rischi che corri? Beh uno che va a cavallo per esempio avrà un rischio maggiore nonostante i cavalli siano degli animali splendidi, ma gli incidenti e cadere da cavallo può comportare dei rischi e dei pericoli maggiori rispetto magari a una persona che va a correre al parco. Certo che se la persona che va a correre al parco attraversa la strada senza guardare con rosso e magari lo fa in uno dei corsi trafficati alle sei del pomeriggio è chiaro che questa persona correrà un rischio molto maggiore rispetto a chi va a cavallo. Però la domanda iniziale quali rischi devo io cliente assicurare e quali no è assolutamente della massima importanza. Perché? Perché sulla base di quello che io mi aspetto di avere da un'assicurazione e quindi poi l'eventuale risarcimento e sulla base di quello che è appunto la mia giornata che sia lavorativa o che sia nella vita privata, nel tempo libero. Ecco allora che poi l'assicurazione che viene stipulata assume tutta quanta un'altra connotazione. Perché? Perché è un qualcosa realmente di personalizzato, è un qualcosa che realmente si è costruito sulla base di quelle che sono le proprie esigenze, i propri bisogni e i rischi che materialmente si corrono di giorno in giorno. È ovvio che non è possibile che io ti dica o che ti consigli su quali polizze assicurarti e su quali no, quindi cosa stipulare e cosa no, o su quali rischi andare a tutelarti maggiormente piuttosto che gli altri. Perché è una situazione assolutamente soggettiva. Io per esempio ho 28 anni ed ho una polizia infortuni, ho una temporanea casomorte sulla premorienza e pensa che non ho né un mutuo, né sono sposato, né ho figli, però ho deciso comunque di dare una copertura mia personale, non solo a me stesso, ma in parte alla mia compagna e in parte ai miei genitori. Quindi ho messo mia mamma se dovesse capitarmi qualcosa. Poi ho vabbè la polizza auto e va bene, un pack che è un piano di accantonamento, di accumulo e del pack parlavo in altri video particolarmente rischioso il mio, quindi metto a rischio il 70% del mio capitale che verso mensilmente, ho un rc professionale ed ho una polizza casa con l'rc capofamiglia nello specifico che tutela i terzi dai danni che io posso fare agli altri. Quindi capisci che io ho 6 assicurazioni, ho 28 anni, non corro particolari rischi se non quello di andare in macchina dai clienti e però sento particolarmente i miei bisogni assicurativi e quindi mi assicuro per quello che è il mio bisogno, la mia sensazione ma che è assolutamente soggettiva. E se stai pensando che lo faccio solo perché lo faccio come lavoro, in realtà devo dirti che non sono l'unico, anzi sono meno assicurato rispetto ad altri ragazzi della mia età che però sentono particolarmente questa esigenza, forse anche perché loro hanno dei figli quindi vogliono tutelare maggiormente quello che è il loro reddito ed il loro patrimonio familiare. Per chiudere, tornando a noi, la domanda che ti devi fare è quali sono i rischi che corro tutti i giorni. Quando vai ad un appuntamento con un assicuratore cerca sempre di portarlo a chiederti quella che è la tua giornata tipo, cerca di indicare tu la strada al tuo assicuratore se vedi che lui non lo fa, per dargli le giuste imbeccate per dirgli quelli che sono i rischi che corri e che vuoi tutelare.